Ciao, buonasera a tutti. I grandi classici a volte ritornano e ho deciso di fare una diretta con un mio cavallo di battaglia, una cosa che mi piace molto e che avevo smesso di mangiare in gravidanza perché era inadatto, perché sapete che tutto ciò che è crudo, affumicato, insomma conservato in questi metodi un po' così, non è adatto perché è più rischioso e quindi se ti c'è per una persona che non ha problemi al massimo si becca un mal di pancia se ci fosse qualche problema, per una persona incinta chiaramente i problemi sono tanti. Oggi c'è Stitch che non mi lascia vivere perché è giustamente che facciamo, facciamo le dirette serene, ma no, ti prenderei, ma devo mangiare, posso? Allora, cosa intendo con grandi classici? Oggi amo le geometrie. Allora, è una piadina integrale con sopra salmone selvaggio e avocado. Come vi dicevo, grandi classici perché ne avevamo parlato tante volte. Questa merenda, merenda colazione, di solito è una grossa scoperta per tutti quelli che ci si avvicinano. Chiaro, se non ti piace proprio il pesce, no, va bene, ok. Però di solito il salmone è una classe di pesce un po' diverso e piace. E abbiamo chiaramente il salmone selvaggio. Perché selvaggio? Via le risposte. Quanto mi è mancato? Ciao Michela, ciao Emy. La domanda è, perché il salmone è selvaggio rispetto al salmone normale? Rispondete nei commenti e ricordatevi di condividere il video per aiutare le persone che ancora non fanno questo tipo di merenda o di colazione, a scoprirla. Ciao Fossi. Guarda cosa mangio Fossi. Grande classico. La felicità. Non mi rispondete, io mangio, eh. Vabbè, ve lo dico io. Il salmone selvaggio è pescato rispetto a quello classico che è allevato. È meno trattato? No. Il trattamento a fumicatura è la stessa. Infatti, è un alimento di cui non bisogna abusare, perché è conservato, affumicato. Quindi, quello come tanti altri. Ricco di sale, uguale a quello classico. Però, questo qui è pescato. Quindi, il salmone pescato, come vedete, è molto più rosso, molto più arancio scuro rispetto a quello allevato, che è più rosa, perché ha molto più bianco, che è il grasso. Voi dovete pensare che gli allevamenti di pesce sono molto intensivi. Ci sono tantissimi pesci che nuotano in pochissimo spazio. quindi non c'è un'adeguata, come si può dire, nuotano nelle loro stessi scarti, no? Capite? E non hanno la possibilità di sviluppare bene le masse muscolari, mentre invece sono molto grassi, no? Perché stanno fermi lì. È un po' come... È lo stesso discorso dei allevamenti degli animali da carne, ecco. È la stessa, eh. Ed è molto più buono. È molto più forte come gusto. E non a tutti piace. Il salmone è mangiucchiato anche da chi il pesce... Il salmone è fonte proteica e di grassi. Anche se quello selvaggio è meno grasso rispetto al solito. E io ho aggiunto un'ulteriore dose di grassi buoni con l'avocado, che è la morte sua, salmone avocado. Se non l'avete ancora provato, fatevi forza. Lasciate perdere le vostre... Posso dirlo, pippe mentali. Oh no, colazione, quella roba. Colazione, merenda, provatelo, perché è buonissimo. E dal punto di vista salute, è chiaramente ricco di molti nutrienti. Come vi dicevo, c'è grassi di ottima qualità, vitamina E, molto antiossidante. E la piadina aggiunge una parte di carboidrati che in quella merenda lì non sarebbe presente. Io ne ho scelta una integrale, solo con olio extravergine. Una merenda bella grassottella, che ci sazia bene fino a cena. Avete visto che la mia porzione non era abbondante, era un tondo più o meno così. Con anche gamberetti avocado, sì, Valeria, anche gamberetti avocado. Cosa vi dicevo? Quindi l'avocado erano due fettine, il salmone anche. E quindi, ecco, una merenda che, devo dire, mi piace sempre tanto. E era tanto che non la facevo, perché durante la gravidanza non lo mangiavo, quindi ho perso un po' il giro, no? E quindi ho detto, è ora di rifare un vecchio grande classico. E va bene, se siete online e volete farmi delle domande, è il momento. Ricordatevi di condividere il video per tutte quelle scettiche che, no, figurati se mangio salmone e avocado, no? Al massimo i gamberetti. Se no, se non avete domande, chi lo vede indifferita può scriverle nei commenti. Io oggi scappo, che sono un po' indaffarata, e come al solito noi ci vediamo domani, spero. E alla prossima! Ciao a tutti! Ciao a tutti!